Xavier, dopo il secondo giorno del test gratis in Valencia, cosa puoi dire? Prima credo che siamo nel gioco. Ovviamente è troppo facile da dire se siamo in un'automobile o solo un'automobile, ma sicuramente siamo nel gioco. Questo è molto importante. Credo che il nostro gioco è buono. E' un buon start per noi. C'è un'automobile speciale che hai lavorato per sviluppare o è il programma che hai fatto a casa? È importante capire che questa è la prima session con tutti insieme per un evento. Abbiamo insieme la squadra di DS e la squadra di Città. Quindi è molto importante per noi creare questa squadra. Per noi lavoriamo ancora in questo modo. Concerso il risultato, il risultato del carro. Credo che oggi non siamo in una strada città. E' un'automobile speciale. Per noi, il risultato del carro non è molto importante. E' importante vedere che la squadra funziona bene, che la strategia per la rai e la qualità funzionano bene. Tutte le strategie per la bianca. Quindi ci sono molte cose per controllare e preparare il prossimo evento in Riyadh. Ma il risultato e il tempo di tempo per la squadra non è molto importante. Perché è molto diverso in quanto riguarda la squadra che abbiamo per la rai. E il fatto che hai bisogno di imparare la squadra di Ticitta. È qualcosa di più complicato o è qualcosa che questo livello è più o meno normale? Credo che è diverso. Un nuovo approccio, nuovi rai. Abbiamo già lavorato con Giav in ultimo. Nessi rai, nuovi rai e ingegneri. Alcuni rai, sono arrivati dal DS, altri da Ticitta. Quindi, per noi, lavorare insieme è molto interessante. E credo che se possiamo fare la migliore di ogni parte, possiamo essere molto veloce. E questo è il più importante. Per l'ultimo, poter farci per la victoria. Ma questo è il nostro target. E a questo punto, possiamo dire che siamo in giro. Grazie mille. Grazie.